Oggi parleremo di un argomento che sicuramente susciterà l'interesse di molti di voi, come riconoscere un bugiardo. Chi non ha mai avuto dubbi sulla sincerità di qualcuno? A volte può essere difficile capire se ci stanno dicendo la verità o meno, ma con le giuste tecniche è possibile scoprire se qualcuno sta mentendo. In questo video ti mostrerò 10 strategie efficaci per smascherare una persona che mente. Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi scientifici sul tema delle bugie, in quanto esse non solo causano un costo economico, ma anche un costo sociale, ovvero la perdita della fiducia. Pamela Meyer, autrice del libro Lie Spotting, ha elaborato alcune tecniche per individuare i bugiardi. Ma come possiamo utilizzare queste tecniche per riconoscere le persone false che ci circondano ogni giorno? In questo video ti fornirò una guida dettagliata su come individuare i segnali che indicano che qualcuno ti sta mentendo, così da poter comprendere meglio le intenzioni del tuo interlocutore. Film e serie TV hanno spesso esaltato le abilità di mentalisti, detective e specialisti in grado di individuare un bugiardo al primo sguardo, ma quanto c'è di vero in queste tecniche? Scopriamolo insieme. La dottoressa Meyer, dopo aver completato gli studi presso l'Harvard Business School, ha lavorato per anni con un team di esperti nella rilevazione di microespressioni facciali, conduzione di interrogatori ed analisi delle dichiarazioni giurate. Grazie alla sua lunga esperienza, la dottoressa Meyer ha individuato dieci segni distintivi del bugiardo patologico, il cosiddetto «pinocchio» della situazione. Ecco quali sono. 1. Il bugiardo pone le distanze tra sé e l'oggetto del discorso. Ti ricordi il celebre discorso del presidente americano Clinton in cui giurava di non aver avuto rapporti intimi con Monica Lewinsky? Le sue parole esatte furono «non ho avuto rapporti intimi con quella donna», Miss Lewinsky. Questo esempio rappresenta un classico caso di distanziamento dal soggetto della conversazione da parte di chi mente, anche attraverso l'uso di un linguaggio formale come l'uso del titolo «Miss». Quando una persona mente, spesso cerca di distogliere l'attenzione dall'oggetto della conversazione, cercando di creare una sorta di barriera tra sé stessa e ciò di cui sta parlando. Se sospetti che il tuo partner ti stia tradendo e fa finta di non conoscere la presunta amante, questo potrebbe essere un segnale di allarme. Infatti, il tentativo di distogliere l'attenzione dal soggetto potrebbe indicare che sta cercando di nascondere qualcosa. 2. Il bugiardo cerca di rafforzare le sue affermazioni con frasi fatte. I bugiardi spesso cercano di convincere l'interlocutore della propria sincerità, utilizzando espressioni come, a dir la verità, onestamente, se devo essere del tutto sincero, in tutta onestà. Questi tentativi di autoapprovazione possono essere molto evidenti e rappresentare un forte segnale di allarme per chi cerca di individuare un bugiardo. Altri segnali da tenere d'occhio includono il contatto visivo, la postura e la velocità del discorso. Ad esempio, chi mente spesso cerca di evitare il contatto visivo diretto, si muove in modo nervoso e parla più rapidamente del solito. Tuttavia, questi segnali possono anche essere influenzati da fattori come l'ansia o la timidezza, quindi è importante prendere in considerazione l'intero quadro. Ricorda, individuare un bugiardo non è un esercizio di precisione al 100%, ma piuttosto una questione di valutazione complessiva dell'atteggiamento. Sii sempre attento e cerca di valutare con cautela prima di trarre conclusioni affrettate. 3. Il bugiardo ripete la domanda che gli hai posto prima di risponderti. Spesso, quando una persona mente, cerca di guadagnare tempo per organizzare le proprie idee e trovare la giusta risposta. Una delle tecniche utilizzate è quella di chiedere di ripetere la domanda, in modo da guadagnare tempo prezioso. Tuttavia, questa tattica può rivelarsi controproducente se utilizzata in modo eccessivo o maldestro. Infatti, ripetere la domanda troppo spesso o in modo strano può attirare l'attenzione dell'interlocutore e fargli sospettare che si stia mentendo. 4. Il bugiardo ti fissa negli occhi. La convinzione che solo chi parla con sincerità ti guardi dritto negli occhi è radicata nella cultura popolare, ma gli studi della dottoressa Meyer dimostrano che questo non è sempre vero. I bugiardi sono soliti mantenere un contatto visivo forzato e innaturale, come se volessero trasmettere una sensazione di sincerità. Inoltre, invece di agitarsi come capita spesso nei film, i bugiardi si irrigidiscono e tengono immobile la parte superiore del corpo. Questo comportamento potrebbe essere indice di tensione e ansia, causati dalla difficoltà di mantenere una bugia convincente. 5. Il bugiardo sorride più del dovuto. Ecco un'altra verità svelata. Il sorriso può essere un'arma a doppio taglio. Spesso associamo la sincerità al sorriso e al calore umano, ma in realtà, i bugiardi possono manipolare il nostro giudizio facendoci credere di essere onesti grazie a un sorriso falso. Ma c'è un modo scientifico per distinguere un sorriso sincero da uno falso. Secondo gli studi, chi sorride sinceramente coinvolge tutto il corpo, non solo le labbra ma anche gli occhi e le sopracciglia. Invece, chi cerca di simulare un sorriso falso, si concentra solo sul movimento dei muscoli delle labbra, tradendo così i suoi reali sentimenti. Pertanto, se hai il sospetto che qualcuno ti stia mentendo, guarda attentamente il suo sorriso e cerca di cogliere le differenze tra un sorriso sincero e uno falso. Se stai trovando il video interessante, ti invito a mettere un mi piace e a iscriverti al nostro canale YouTube per non perdere i prossimi contenuti. Ma adesso continuiamo con gli altri 5 indizi per smascherare un bugiardo. 6. Il bugiardo fornisce una marea di dettagli irrilevanti. Il bugiardo convinto che le sue menzogne non siano credibili, tende ad arricchire i suoi racconti con dettagli inutili, convinto che in questo modo renderà la sua storia più credibile. Tuttavia, la verità è che la qualità della storia non dipende dalla quantità di dettagli, ma dalla sua coerenza. Una storia con troppe complicazioni rischia di sembrare poco credibile. Inoltre, un discorso troppo complesso può essere facilmente dimenticato o malinterpretato. Ricorda che le parole inutili sono solo un ostacolo alla comprensione e alla fiducia delle persone che ti ascoltano. 7. Il bugiardo si fa sfuggire espressioni contraddittorie. Il modo in cui il nostro corpo si muove può rivelare molto di noi, anche se non ne siamo consapevoli. Ad esempio, se ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo mentire, il nostro corpo potrebbe involontariamente tradirci attraverso espressioni contraddittorie. Anche se un bugiardo ha il tempo di preparare la sua storia, potrebbe non essere in grado di controllare completamente i suoi movimenti. Potrebbe dire «sì» a voce, ma contemporaneamente scuotere la testa come per dire «no», o raccontare storie convincenti mentre alza le spalle, o ancora fingere di essere triste mentre ha gli occhi che gli sorridono. Tutto questo è legato alle microespressioni, piccoli movimenti del volto che possono rivelare il nostro vero stato emotivo. 8. Il bugiardo non è in grado di ricostruire la sua versione partendo dalla fine. Non tutti hanno la capacità di mantenere una storia coerente e logica nel tempo. Se hai il sospetto che qualcuno ti stia mentendo, potresti chiedergli di raccontare la stessa storia in momenti diversi e in circostanze diverse. Chi mente avrà difficoltà a ricordare i dettagli e potrebbe commettere errori, contraddizioni o cambiare versione. Questo perché il cervello deve fare uno sforzo maggiore per tenere a mente un evento che non ha vissuto realmente. Inoltre, il tempo e le esperienze successive potrebbero influenzare il modo in cui la persona racconta la storia. 9. Il bugiardo involontariamente dispone i piedi in direzione di un'uscita. I bugiardi spesso mostrano un impulso inconscio a voler fuggire dalla situazione. Potresti notare che hanno i piedi rivolti verso l'uscita, come se fossero pronti a scappare in qualsiasi momento. Questo non vale solo per i bugiardi patologici, ma anche per le persone che si sentono a disagio o sotto pressione. Quindi, se sospetti che qualcuno ti stia mentendo, osserva attentamente la direzione dei suoi piedi per vedere se ci sono segnali di nervosismo o inquietudine. 10. Il bugiardo cerca di creare una barriera con l'interlocutore. Le persone che mentono spesso cercano di creare una barriera emotiva con l'interlocutore. Ciò significa che evitano il contatto visivo, spostano il loro corpo in modo da allontanarsi dall'altra persona o frappongono degli oggetti come tavoli o sedie per creare una sorta di fortezza virtuale. Questo comportamento indica che la persona sta cercando di nascondere qualcosa o di mantenere una certa distanza emotiva. Inoltre, le persone che mentono possono anche sbattere le palpebre più spesso del normale o abbassare il tono della voce, segnali che suggeriscono che non stanno dicendo la verità, è importante tenere presente che individuare un singolo segnale o comportamento non è sufficiente per concludere che una persona stia mentendo. Tuttavia, se durante una conversazione noti la presenza di diversi di questi indizi, è probabile che la persona con cui stai parlando stia cercando di nascondere la verità. E anche per oggi è tutto. Conoscevi già questi indizi? Fammi sapere le tue esperienze con i bugiardi nei commenti e se il video ti è piaciuto regalami un like e magari una condivisione. Ciao e alla prossima!